Grazie Grazie Sabato 2 agosto 1980, alle ore 10.25, un ordigno, collocato nella sala d'aspetto di seconda classe, provocava il crollo di un'ala intera della stazione centrale di Bologna. La prima ambulanza era qui, dove ci troviamo adesso, neppure due minuti dopo. Ed è stato da allora una corra incessante di soccorsi, di medici, infermieri, carabinieri, vigili del fuoco, in un frastuono di sirene, in un vortice di gente impazzita, che usciva terrorizzata dall'edificio, colpita a morte, o che cercava di entrarvi alla ricerca di un figlio, di una madre, di un parente, di un amico. Tanti giovani che attendevano il treno per andare al mare, urlavano il nome dei compagni di viaggio, che non trovavano più. Dalle macerie si estraevano gli zaini e i poveri resti dei loro amici, che avevano concluso a Bologna, in una calda mattinata di agosto, la loro breve esistenza. Dal cumulo di calcinacci e detriti continuavano ad emergere, sotto il febbrile lavoro dei soccoritori, corpi strassiati di donne, ragazzi, bambini, anziani, che stavano partendo per le vacanze o attendevano una coincidenza. L'incubo di un atto terroristico nell'anniversario della strage del Trenitalicus, perpetrata il 4 agosto 1974, all'indomani del deposto della sentenza istruttoria, si era materializzato nel peggiore dei modi. I morti risultarono 85, i feriti 200. Nel progetto degli attentatori anche quella sarebbe dovuta rimanere l'ennesima strage impunita. Le stragi, che avevano preseduto quella di Bologna, avevano insegnato come fosse facile per i terroristi, spioni, servizi di sicurezza, personaggi con responsabilità accertate, ottenere l'impunità giudiziaria. Per impedire agli inquirenti di arrivare alla verità, si cominciò a depistare fin dal minuto successivo allo scoppio della bomba, e i depistaggi sono continuati nel corso delle indagini e dei processi. Si depistava affonnosamente per difendere gli imputati in modo da complicare le indagini, far dimenticare e rendere più facile l'impunità degli autori e dei mandanti. Si depistava perché i giudici avevano imboccato la strada giusta. Si depistava per timore che coloro che erano stati incarcerati raccontassero la verità. Ancora oggi si depista. È il modo per depistare molto spesso il silenzio, il non raccontare quello che è emerso da anni di indagini accurate e di processi, il tacere delle responsabilità che sono state acclarate nelle sentenze passate in vita. È per questo che noi qui oggi vogliamo gridare a gran voce i nomi di chi si è macchiato di una simile atrocità. Sono i nomi dei terroristi neofascisti Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Savardini, che collocarono materialmente Nordigno in stazione. Sono i nomi del capo della loggia massonica P2, Licio Gelli, del faccendiere Francesco Pazienza, del generale Musumeci e del colonnello Belmonte, entrambi posti ai vertici del sismi ed iscritti alla loggia massonica P2, che si adoperarono in ogni modo per inquinare i processi e sviare le indagini dalla pista neofascista italiana. Tutti costoro, pur se condannati, non hanno mai completamente pagato per le atrocità commesse e sono da anni in libertà. La nostra associazione, in particolare, denunce da anni lo scandalo del trattamento privilegiato concesso agli esecutori materiali di quel vile attentato, i quali hanno sempre tacciuto sui mandanti e per questo sono stati premiati. Luigi Savardini, condannato a trent'anni per decidere la stazione, non è rimasto in carcere neppure due anni. Francesco Mambolo e Valerio Fioravanti, condannati complessivamente a 15 ergasti e a più di 200 anni di carcere, hanno scontato soltanto due mesi di detenzione per ogni morte causata. Costoro sono inoltre stati premiati anche con il silenzio dei Basmiglia su tutti i feroci reati commessi e ben pochi sono i giornalisti coraggiosi che vanno controcorrente e ricordano ai cittadini il loro lunghissimo e sconvolgente curriculum criminale. Uno di loro è il bravo giornalista Mario Adinolfi, che quest'anno con un articolo sul quotidiano Europa ha ricordato Alessandro Caravillani, un giovane passante di 17 anni che è stato ucciso da Francesca Mambolo durante una rapina. Vogliamo esprimere a Mario Adinolfi, che qualche settimana dopo ha subito un'inquietante e violenta aggressione fisica, tutta la nostra solidarietà. In questo paese, in questo incredibile paese, Mario Fioravanti ha avuto l'altra potenza di accusare Adinolfi di viltà proprio per aver ricordato quel turbio omicidio commesso da Francesca Mambolo. In un paese normale che ha ucciso quasi cento persone non dovrebbe mai permettersi di dare del vile a chi che sia, tantomeno ad un giornalista onesto e documentato. L'arroganza di Fioravanti ci spiega soltanto per il fatto che lui e i suoi sudari ci sentano ancora oggi protetti e spaleggiati, coccolati da un clima loro favorevole anche a livello istituzionale. Del resto, questo clima che ha delle persone onesti a fare sconfottante è purtroppo sotto i dotti di tutti. Le cronache degli ultimi mesi si sono occupate della squallida vicenda delle parentopoli romana, che ha coinvolto il sindaco Alemanno dopo che nelle aziende municipalizzate da capitale ci sono scoperte numerose assunzioni senza concorso e ha chiamato diretta a favore di amici e scaverati del primo cittadino di Roma. Uno di questi estremisti raccomandati ci è anche distinto per aver pubblicato su un social network inaccettabili frasi antisemite. Oltre alla pattuglia di neofascisti raccomandati che è stata dalle mani nelle municipalizzate cittadine, colpisce il fatto che lo stesso sindaco, nella ricorrenza del trentesimo anniversario della scomparsa del giudice Mario Amato, non abbia sentito l'esigenza di commemorarlo e sia stato invece un gruppo di cittadini a realizzare a proprie spese un monumento nel luogo in cui è inipersa la vita. L'anno seguente, poi, il sindaco Alemanno per oscurare l'opera di questi onesti cittadini ha risposto insieme al ministro della gioventù, Giorgia Meloni, dedicando ai luoghi abituali di ritrovo dell'estrema destra militanti della stessa area, il tutto alla presenza di un picchetto d'onore di militanti di destra che hanno esibito il saluto romano e bandiere con croci inceltiche come apparso sui quotidiani nazionali. Questi preoccupanti episodi fanno tornare alla mente quella sorta di solidarietà criminale e istituzionale che si scatenò nel 1994, immediatamente dopo che gli esecutori materiali della strage di Bologna rilassiarono un'intervista al giornalista Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, intitolata «Loro al governo, noi ad Ergaspero». In quell'intervista gli esecutori materiali della strage alla stazione sembravano ricordare ai loro camerati di un tempo la comune appartenenza evidentemente mai del tutto recisa ad un album di famiglie avversivo e violento in una logica ricattatoria che probabilmente ha sortito gli effetti sperati. A partire da quell'intervista si sono intensificati i tentativi di offiscare le scottanti verità giudiziarie definitivamente acquisiti e le porte del carcere per i due plurimicidi e stragisti si sono aperte definitivamente. E mentre i camerati che hanno mantenuto il patto di omertà vengono beneficiati da incredibili sconti di pene e favoritismi di ogni tipo, chi invece ha cercato di riscattarsi e ha collaborato con la giustizia viene barbaramente ucciso. L'ottobre scorso, Sergio Calore, figura di spicco del terrorismo nero ed ex collaboratore di giustizia, che aveva reso dichiarazioni molto importanti sulle versioni di estrema destra e anche nel processo per la strage del 2 agosto è stato barbaramente trucidato a polpi di piccone. I suoi assassini rimangono ancora ignoti, ma a nostro parere anche questo omicidio è un lucubre segnale su cui sarebbe bene indagare. Nel frattempo, dalle croniche dei quotidiani, è prima stata relegata alle pagine interne, poi del tutto scomparsa, l'inquietante figura di Gennaro Mockbell, estremista di destra accusato del maxi-riciclato Joe Farber e pare legato a doppio figlio alla banda della Magliana, ai servizi segreti e al non fascismo romano. All'indomani dell'arresto di Mockbell, Valerio Fioravanti, temendo di ritrovarsi nei guai dopo le vicine di telefonate intercettate, l'ha subito bollato come mascarzoncello di partiere. Ma può un mascarzoncello di partiere organizzare il riciclaggio del secolo? Può determinare le elezioni di un seditore? Può esprimere il padrinaggio su un altissimo dirigente nominato da Alessandro Stefano Andrini, anche lui terrorista nero condannato per duplice obbicidio negli anni 90? Può finanziare la latitanza del più pericoloso posto ancora in vita della banda della Magliana, anche lui ex terrorista dei NAR? Può avere milioni di euro nascosti in diamanti opere d'arte? No, Mockbell non è un mascarzoncello di quartiere e questa non è una storia da pagina interna. Questa è la storia del nostro Paese, quella che aveva già intuito 31 anni fa il giudice Amarco, lasciato solo ad indagare sui legami tra estremismo e fascista e con quei rivoluzioni e i promoti di loro genitori. Per le sue indagini e per il suo coraggio Mario Amarco ha pagato con la vita. Come lui sono caduti per proteggere la democrazia e per favorire il loro lavoro e per fare il loro lavoro molti magistrati e su questo vorremmo aprire una piccola riflessione. Nel corso di quest'anno sono giunti ai magistrati i pesantissimi attacchi. La magistratura è stata definita un covo di malato di mente, di eversoni, equiparati ai terroristi delle Brigate Rosse e addirittura un cancro da estrimpare. Riteniamo che queste siano frasi molto gravi. Ciò che più si ha ferito è che alcuni di questi puri attacchi sono arrivati da elevatissimi livelli istituzionali e anche da chi è stato iscritto alla loggia massonica P2 come il Presidente del Consiglio onorevole Silvio Berlusconi. Non intendiamo entrare in alcun tipo di polemica ma su una cosa non possiamo tacere. Siamo profondamente convinti che non vi sia nessun pulpito dal quale una persona che è stata iscritta alla loggia massonica P2 per quello che la loggia massonica P2 ha rappresentato e ancora rappresenta nella storia del nostro Paese possa ergersi a giudicare uomini, istituzioni e associazioni che sono stati inferno della democrazia e delle istituzioni del nostro Paese. Vogliamo ricordare che gli esponenti di quella loggia sono stati condannati per il distanzio e per il finanziamento di bande terroristiche. Il 17 marzo di quest'anno si sono festeggiati 150 anni dell'Unità d'Italia ma ricorreva anche un altro anniversario i trent'anni della scoperta da parte del Giuseppe Turone Colombo degli elenchi della lista dell'appartenente alla loggia massonica P2 nella villa di Risogeli ad Ave. La loggia massonica P2 a parte da subito come uno scuro progrimio di interessi dietro il quale affioravano business e tangenti legami con la mafia e stranismo omicidi escellenti e soprattutto un progetto politico antisistema una centrale volta al controllo del sistema democratico. Va in pressione oggi leggere la profezia di una grande donna delle istituzioni Tina Anceli che fu chiamata a guidare la commissione di inchiesta sulla lotta massonica P2. Il 25 novembre del 1982 scriveva D.P2 non nascono a caso ma occupano spazi lasciati vuoti per insensibilità e li occupano per creare la P3, D.P4 e così via. Sembra che fra le righe dell'indagine di 29 anni fa sulla P2 avesse visto in filigrana i complotti di oggi. Gli attacchi giunti in questi mesi alla magistratura suonano dunque più sinistri se si pensa che uno dei principali obiettivi della osa massonica P2 era quello di umiliare la magistratura togliere l'indipendenza e numeri il rischio che anche i potenti debbano rispondere alla giustizia. Tutto ciò per tornare a un modello vecchio e drogato di società in cui gli status e i diritti non dipendono da leggi sui cuori per tutti ma da rapporti di potere considerare le persone sudditi e non cittadini. Oggi più che mai il Parlamento e le istituzioni dovrebbero vigilare sul rispetto della legalità e anche dei diritti delle vittime e dei cittadini onesti. Invece il vento sembra soffiare proprio nella direzione opposta. Per mesi il Parlamento è stato impegnato a discutere leggi per agilare la giustizia. L'atteggiamento del governo sul tema del segreto di Stato è stato volutamente inconcludente. La legge del 2007 ad oggi è stata inattuata per la mancanza dei negretti attuali. Sembra quasi che fatta la legge il segreto di Stato non debba avere una scadenza ma debba essere eterno. Il 9 maggio di quest'anno il Presidente del Consiglio Onorevole Silvio Berlusconi per attirare l'attenzione su di sé dichiarava Travato. Per questo diciamo basta l'umiliazione delle vittime e dei loro valenti. Per questo dichiaro oggi l'impegno del governo a contribuire ad aprire tutti gli armadi della vergogna perché nessuna strage rimanga più a volta nel mistero. Dobbiamo colmare una grande scena di giustizia e verità in modo concreto senza retorica. Ad oggi non una sola pagina della ricchissima documentazione esistente è giunta la procura in Bologna. Anche qui si è dimostrata una leggerezza e un dispresso enorme verso i familiari e tutti i cittadini italiani. La cittadinanza con Cessera Basile a Cesare Battisti terrorista con un omicidio è una gravissima fesa a tutte le vittime del terrorismo. Questo è il frutto anche nel maldestro comportamento dell'esecutivo nella richiesta di estradizione del terrorista che ha rivelato ai ritardi delle adeguatezze e la mancanza di volontà di rappresentare con forza le istanze degli italiani. Nei confronti dei parenti delle vittime e non solo della strage di Bologna il governo ha avuto un comportamento più inqualificabile. Quest'anno come l'anno scorso non ha inviato alcun rappresentante istituzionale a Bologna. Lo stesso si è verificato a gennaio nella ricorrenza dell'ecidio dei tre carabinieri al pilastro per mano della banda della Uno Bianca. La strategia sembra quella del silenzio la volontà quella di far dimenticare. A ciò si aggiungono le inimmaginabili difficoltà burocratiche che sono state poste per l'applicazione della legge del 206 nuove norme a favore delle vittime del terrorismo e delle strage come se si volessero affugare i parenti delle vittime in un mare di carte e di cavigli per fare in modo che non si occupino più della ricerca di giustizia e verità umiliare le vittime cercando di farle passare per quest'umanti perché si battono legittimamente affinché una rete dello Stato approvata la unanimità dal Parlamento nel 2004 sia correttamente applicata in ogni sua parte. Le promesse e le assicurazioni avute subito dopo l'insediamento di questo governo dall'onorevole Silvio Berlusconi e dal sottosegretario Letta si sono dimostrate parole al vento fatti da ricercatori di facile consenso. Nessun atto concreto è stato compiuto ma anche su questo continueremo la nostra battaglia per farla applicare integralmente la legge. Vorrebbero dimenticare e che anche noi dimenticassimo ma noi non dimentichiamo non possiamo non vogliamo e non dobbiamo dimenticare non possiamo dimenticare lo sentito della vita dei nostri cari non possiamo dimenticare questo passare della stazione trasformato in uno scenario di guerra non possiamo dimenticare la solidarietà ricevuta oggi come in quei terribili giorni la dolcezza e l'umanità degli infermieri che ci accompagnavano a riconoscere quel che rimaneva dei nostri cari il personale tutto degli ospedali che entravano precipitivamente dalle terri per rincorre dei terri i cittadini comuni che scavavano tra le materie o le mani non possiamo dimenticare l'affetto di tutta la città di Bologna insedita in quell'occasione della medaglia d'oro al valore civile dal Presidente della Repubblica San D'Agostino per la democratica permetta e il civile coraggio di nostra quella democratica permetta e il civile coraggio ci hanno guidati in tutti questi anni nella consapevolezza che fosse il nostro dovere nei confronti non solo dei nostri morti ma di tutti gli italiani alzare la voce e continuare a chiedere giustizia e verità nel manifesto di quest'anno abbiamo scritto l'associazione compie 30 anni la nostra battaglia civile non è ancora compiuta con la forza d'animo e la tensione civile che i familiari delle vittime delle stragi e dei tanti incidi avvenuti nel nostro paese hanno offerto nei processi per l'acertamento della verità e la formazione della giustizia e sotto gli occhi di tutti il muro dell'omertà di Stato eretto dai servizi segreti e da cui ha occupato le istituzioni per tutelare i terroristi e di loro mandanti in nome di una finta ragione di Stato la nostra battaglia civile non è ancora finita perché all'appello mancano i mandanti e dopo che le documentazioni e le risultate della commissione Mitrochini i giudici hanno dovuto perdere cinque anni di indagini su documenti inconcludenti pochi mesi fa abbiamo presentato alla Produra di Bologna un memoriale con cui chiediamo di far luce sulla compressa rete in cui hanno operato gli autori materiali dell'attentato dell'agosto 80 la nostra richiesta prende le mosse dalle carte sul processo per la strage di Brescia e dalla rilettura dei procedimenti giudiziali che negli anni hanno coinvolto personaggi vicini a Valerio Fioravanti Francesca Mambro e Luigi Savardini i nuovi spunti di indagini avvalorano il contesto cristallizzato delle sentenze e cioè la complessa ragnatela di rapporti tra terroristi e neofascisti servizi segreti criminalità organizzata e massoneria appaiono ormai accertati collegamenti stretti tra Fioravanti e la massoneria e collusioni e legami ancora vive con persone estremamente pericolose gli esecutori immateriali della strada di Bologna non sono perseguitati non sono capri ispiratori non sono soli abbandonati ma possono contare sull'assistenza dei ricchissimi camerati di un tempo e sulla riconoscenza di molti che non hanno trascinato in galera quando avrebbero potuto arrivare arrivare ai mandanti dell'attentato alla stazione di Bologna è possibile basta mettere in fila i fatti e analizzarli con onestà e buon senso corre finalmente fine al segreto di Stato facendo sì che il carteggio relativo alla strada esacente presso tutti i servizi segreti negli archivi dei vari ministeri e dei creminieri sia messo a disposizione dei giudici sarebbe indice della volontà del Parlamento tutto di colpire i mandanti e tutti coloro che hanno favorito il terrorismo anche con la loro colpevole inerzia questo misurerà nei fatti la volontà politica di far cadere ogni complicità istituzionale e affermare compiutamente la democrazia del nostro Paese 30 anni fa quando abbiamo fondato l'associazione delle vittime della strage abbiamo deciso di non arrenderci davanti alla strage in mano che ci aveva colpito e abbiamo voluto guardare avanti giustizia e verità erano e sono l'unico modo per onorare i nostri morti e per scongiurare la possibilità che le stragi possano ripetersi nella nostra battaglia civile abbiamo sempre avuto al nostro fianco tanti cittadini la solidarietà concreta di persone che come noi non intendano dimenticare persone come voi che da quello agosto del 1980 ci avete accolto e supportato e che oggi ci dimostrate che noi non siamo soli a tutti voi grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti